Shakespeare's Showdown è un'esperienza videoludica che porta la performance all'interno di un videogioco. Attori in carne e ossa sono rielaborati in pixel art e vengono raccontati all'interno di un videogioco, un platform 2D insieme ai classici avatar del videogame. Lo spettatore ha la possibilità di partecipare attivamente al processo creativo e di determinare con le sue scelte il destino dei personaggi.